Questo libro forse non è stato nemmeno aperto dal suo proprietario, che anziché tenerlo tra i volumi della propria biblioteca, lo ha abbandonato in strada. Cultura, educazione e sport il titolo del libro. Peccato che nessuno dei tre principi è valido nella maxidiscarica abusiva di Contrada Stefano a Favara. Alla nostra redazione è giunta un'email che segnalava l'inquinamento ambientale presente in zona. Noi abbiamo voluto verificare, inviando sul posto una troupe. La zona periferica ad est del centro abitato è un sito di particolare pregio ambientale ed archeologico, in quanto nelle adiacenze della Rocca di Stefano sorge una grande necropoli paleocristiana con più di cento tombe. La Rocca è attraversata da una galleria del vecchio tratto ferroviario dismesso. Una volta fuori il tunnel, la scena è agghiacciante. C'è di tutto, scarti dei cantiere d'ili, rifiuti di provenienza domestica, industriale ed agricola, ma quello che salta subito all'occhio è la grande quantità del pericoloso materiale composto da amianto e cemento, conosciuto da tutti in Italia con il nome di Ethernet. Dalle lastre di copertura ondulate ai recipienti idrici, l'Ethernet, incontrata Stefano, è presente in tutte le varianti prodotte fino al 1994, anno quest'ultimo, che ha sancito la fine in tutta la penisola, della produzione di tutti i manufatti realizzati con questo materiale, poiché è stata riconosciuta la pericolosità dalla comunità scientifica. Le polveri sottili delle fibre di amianto spigionate nell'aria, infatti, provocano nell'uomo la formazione di diverse tipologie di cancro mortale. Da segnalare come nella maxidiscarica l'amianto è depositato anche sotto forma di macerie, essendo stato precedentemente frantumato. Oltre al terreno su cui sorge la discarica, l'inquinamento ambientale minaccia anche una più ampia fetta di territorio. Infatti, nel vallone sottostante scorre un torrente affluente del fiume Naro che sfoggia nel mare di Cannatello, le cui acque vengono spesso utilizzate in agricoltura per irrigare i campi da cui provengono i frutti che arrivano sulle nostre tavole. La maxidiscarica abusiva di Contrada Stefano è l'emblema di una società poco rispettosa sia della salute pubblica che dell'ambiente. Speriamo che gli organi preposti intervengano subito per porre fine a questo scempio e che mettono in atto tutte le azioni necessarie affinché si arrestino nel sorgere episodi simili. La salute pubblica deve essere garantita, a prescindere dai colori politici dei governi e le persone che commettono questi reati non possono agire liberamente perché devono sapere che il gesto compiuto compromette anche alla vita dei propri figli. E poi si parla di turismo quando ancora non si è capace a far rispettare le regole.